amici di spazio e tech buonasera è il caso di dirlo data l'ora siamo qui con xiaomi mi 3 e per vedere come gira video in full hd in notturna andiamo a effettuare uno zoom torniamo all'inquadratura standard pan e così dunque vi potete fare un'idea di come gira i video in full hd in notturna xiaomi mi 3